La città di Valmissian Covenant ha bisogno di ristore la città e usa un altro strumento offerto da GIOC, il so-called Support Saving. Con questo, la gente può rilasciare l'argento insieme in un account che è usato per un proposto collettivo. I salvatori restano i proprietari del loro investimento, sono dando solo i punti di rilasciare al progetto di ristore. In questo modo, non c'è bisogno di accumulare post-savings, perché sono scoperte da un'argento comunale. Tutto il dinero che abbiamo nella nostra città è dato da persone. Abbiamo pagato molto di interesse perché avevamo un grande dono in un'ordinary bank e ogni anno avevamo bisogno di pagare molto di interesse. Il costo con il former Ordinary Bank era circa 5.000 euro per anno. Ora, grazie a GIOC e Support Saving, il costo è meno di 1.000 euro per anno. Anche se non ho molto di euro, ho messo un po' di euro in un'ordinary bank e non mi costa nulla. Ho avuto l'interesse che avrei avuto. In vostra opinione, perché l'interesse non è una buona cosa? Non supporta tutti i nostri spettatori. Questo sistema supporta i nostri spettatori e i nostri spettatori. Quando penso di un'ordine, Gesù ha detto anche di questo. E ha detto che non si non si può servire sia di Gode e di mammo. Non so se cosa è in inglese. Servire a Gode? Questo significa che la cosa più importante non è di ottenere e di guardare la vita come quanto posso avere, ma di servire, perché questo è detto che devi essere serventi. Per servire altre persone. Sì, e credo che questo messaggio... Questo è il gioco. Sì, ha fatto con il gioco. E anche tutto, in tutto il Nuo Testamento, per esempio la giustizia. In Eskilstuna's Mosque, ho incontrato Abdallah Kilan, Presidente della società islamica, un'organizzazione di 20.000 muslimi, residenti in Sweden. Il quale il Coran dice sull'interesse applicato a money? È una molto forte injunzione contro dare interesse a money. Questo metà la gente in un indignificato posizione. Si sono diventato da persone, più o meno. Ci sono diventati da persone, che ci sono diventati. Ci sono rischi di tutto. Ci sono diventati per pagare il interesse, e il interesse può diventare molto alto. Quindi è diventato usurale. In Gioc, le persone mette in money, le save money, e poi possono pagare in rapporto a quello che hanno salvato. e questo funziona in una forma che non puoi pagare un'interesse. Se hai un'administrativa, per esempio, non puoi chiamare questo interesse. Il Vittorio di Trono è anche utilizzato il supporto di salvamento. L'associazione locale ha abbiato un'account di salvamento in modo da offrire pensioni cheap ai lavoratori. Grazie a questa iniziativa, supportata da il Vittorio, l'associazione economica potrebbe comprare il suo propone per il Vittorio di Trono, dove riusciano un mercato di servizio locale e altri oficini. Inoltre, un servizio di diari e un servizio basato su prodotti locali ha stato abbiato. Adesso, un cooperativo di agricoltura usa le servizio di trono per rinforzare per rinforzare le ruote che sono usati per portare tre tronchi fuori alla cittura. Tutto è basato sull'idea che un servizio economico locale è un servizio importante per la comunità e deve essere preservato. GIOBORROWERS GIOBORROWERS devono vivere in Sveden. La banca non offre il suo servizio in fuori del paese. Ma il suo modello finanziario è già copiato in Germania, dove in Stuttgart un'interess-free cooperativa ha stato creato, inspirato dal stesso sistema e principali. Abbiamo un'organizzazione in Sveden che si chiamano CAIA che sono membri GIOBORROWERS che sono membri GIOBORROWERS che hanno il compagno del sistema GIOBORROWS e possono consultare altre persone in altri countries che vogliono creare una banca GIOBORROWS GIOBORROWERS GIOBORROWER GIOBORROWERS GIOBORROWERS GIOBORROWER Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.